12 novembre Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia Atti 16-31 Una sola possibilità Che cosa significa credere nel Signore Gesù? Immagina di essere ammalato e di chiamare un dottore Dopo un esame approfondito, il dottore ti informa che hai contratto una malattia letale Ma la scienza medica ha scoperto la cura e quindi deve assumere un determinato farmaco Se soltanto rimani a letto e rifiuti il rimedio, certamente morirai Così è con la salvezza offerta da Dio Puoi affermare di essere certo che la storia di Gesù sia vera Ma se tu non stendi la mano della fede per appropriartene, sarai perduto per l'eternità Devi ricevere personalmente il Signore Gesù Cristo Lui è l'unico rimedio per i tuoi peccati Dal momento che ascoltiamo il messaggio dell'Evangelo La predicazione della parola di Dio, la Bibbia E siamo portati al Signore Gesù Dobbiamo chiedergli con tutto il cuore Ti accetto come mio personale salvatore Perché non credere in Cristo oggi? Dio ha mandato suo figlio a morire per noi E se un'altra persona lo avrebbe fatto Egli soltanto ci ha redetto dalla morte eterna Abbi totale fiducia nella sua potenza e nel suo amore per te Ed Egli ti salverà